Si è tenuta con un bilancio estremamente positivo la seconda edizione di Saprilandia presso il Lungomare Italia domenica 30 giugno 2019, quest'anno è dedicata al signor Mario Bruno. Sport, giochi, sorrisi e qualche momento di commozione hanno accompagnato l'intera giornata. Un ringraziamento ed obbligo farlo a tutti i bambini che hanno partecipato, a tutti coloro che da tempo hanno lavorato a questo evento e a tutte le associazioni e le attività commerciali che hanno creduto nella manifestazione e hanno sopportato materialmente ed economicamente la realizzazione di questo evento. Il sorriso dei bambini mentre buttavano a terra i barattoli, dipingevano grandi opere d'arte o mentre si sfidavano nelle varie attività è stato il risultato più grande. Sperando di aver fatto trascorrere una bella giornata, gli organizzatori danno appuntamento alla prossima edizione. Il figlio Igor Bruno a ricordare quello che il padre comunque ha fatto negli anni ed è stato ricordato sempre un giocatore di palla a vola. Allora, hai vino? Ciao! Grazie a tutti.